The Evil Within è il nuovo survival horror di Tango Gameworks, team capitanato dallo storico designer giapponese Shinji Mikami, già autore di una saga seminale come quella di Resident Evil. Proprio dal quarto capitolo si diramano le connessioni maggiori con questa nuova opera prodotta da Bethesda. The Evil Within prende dunque le mosse da un videogioco che ha fatto la storia delle avventure in terza persona, calcando la mano su un'atmosfera distorta, malata e raccapricciante. Il protagonista, il detective Sebastian Castellanos, si risveglia a suo malgrado in un mondo contorto e governato da entità terrificanti, un vero incubo e colpi di scena impressionanti. Diverse le strategie attuabili dal protagonista, che può sfruttare anche movimenti stealth. La tensione viene acuita da cutscene e quick time event carichi di gore e senso dello splatter. Fantastico il design dei nemici e di gran livello il comparto tecnico, che sfrutta degnamente la potenza delle nuove console. The Evil Within uscirà il prossimo 23 ottobre su Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 e PC.